Buona giornata e buona domenica a tutti. Siamo giunti alla sesta domenica di Pasqua e domenica prossima sarà la festa dell'ascensione e poi ci attende la solennità della Pentecoste. Come tutti sapete però, a partire dal lunedì 18 maggio è data la possibilità di partecipare alle celebrazioni liturgiche sia pure a determinate condizioni che cercheremo oltretutto di spiegarvi durante la settimana che ci sta innanzi. Proprio per questo certamente ci sarà data la possibilità di incontrarci, di parlarci sia pure mantenendo le dovute distanze e di conseguenza questo diventa in concreto l'ultimo videomessaggio di quegli appuntamenti che ci hanno accompagnato durante tutto questo tempo di Pasqua. Videomessaggi che volevano essere un piccolo segno di vicinanza, di presenza non soltanto da parte mia ma anche da parte di tutti gli altri sacerdoti delle nostre parrocchie. e stavo domandandomi in questo ultimo videomessaggio che cosa posso lasciare in eredità alla mia gente. E leggendo il Vangelo di questa sesta domenica di Pasqua ho trovato una parola che mi pare molto significativa Gesù ecco che dice ai suoi discepoli e qui dice anche a noi oggi non vi lascerò orfani verrò da voi Gli apostoli hanno sentito Gesù annunciare la sua morte e il suo ritorno al Padre e proprio questa notizia li ha scombussonati e Gesù dice non abbiate paura non vi lascerò orfani verrò da voi Gesù dà una promessa la promessa di una presenza che continua anche dopo la sua morte e la sua salita al Padre è una presenza che continua però nello stesso tempo in questo Vangelo fa anche capire che è una presenza diversa per certi versi potremmo dire durante la sua esistenza terrena la presenza in mezzo ai suoi è stata una presenza storica una presenza fisica adesso la sua presenza diventa una presenza che potremmo definire spirituale tutte le volte che sentiamo che sentiamo questo aggettivo spirituale la nostra mente molto facilmente identifica spirituale con qualche cosa di evanescente e con qualche cosa di piuttosto vago ora invece per il Nuovo Testamento parlare di spirituale significa fare riferimento a qualcosa di molto concreto perché spirituale vuol dire vuol dire nello Spirito Santo nello Spirito del Cristo risorto Gesù ci dice in pratica che d'ora in poi lui sarà presente in mezzo a noi ma sarà presente nello Spirito attraverso lo Spirito attraverso lo Spirito Santo e non si tratta quindi di una presenza ripeto inferiore più debole più vaga rispetto a quella di prima ma anzi per certi versi è una presenza ancora più intensa tanto è vero che la presenza di Cristo durante la sua esistenza storica era quella presenza di uno che ci sta accanto la presenza invece di Cristo nello Spirito Santo è una presenza interiore tanto è vero che lui stesso dice lo Spirito rimane presso di voi e sarà in voi e là dove c'è lo Spirito c'è il Signore risorto insieme con il Padre proprio per questo quello che io vorrei augurare a tutti voi è per questo periodo e che ancora esige da noi molta fatica e anche molta sofferenza per il fatto è che il combattimento contro il coronavirus non è per niente terminato dovremo continuare ad avere quindi questa forza che viene dall'alto e questa parola consolante questa parola di sicura speranza che è quella di Gesù che ci dice sappiate che non vi lascio orfani io sono con voi anzi io sono in voi attraverso lo Spirito proprio per questo io auguro a tutti voi di poter fare questa esperienza l'esperienza di ciò che Gesù in un altro passo ci ha direi presentato quando appunto ha detto ecco che se qualcuno mi ama noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui usa il plurale per dire che è lui nello Spirito insieme col Padre ecco questo è il mio augurio che tutti voi e tutti noi possiamo diventare il tabernacolo della Santa Trinità laddove abita la Trinità è una presenza ripeto di grande consolazione di forza e di speranza ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti